Siamo arrivati! Mi sembra di correre da un'eternità! Che parte di Nessuno ha mai trovato la torre è una leggenda, non hai compreso? Ho sentito dire che alcuni ragazzi hanno cercato la torre per più di cinque anni e non l'hanno mai trovata! Ragazzi, avete visto? Wow! Accidenti! Non avevo mai visto niente del genere prima! Sono rune degli elementi! E dicono solamente ai prescelti sarà concesso passare! Certamente è uno scherzo! Ragazzi, l'abbiamo trovata! Zotobo! Fantastico! La torre degli elementi esiste! Non si muove! Bene, vogliamo entrare o vogliamo entrare? Forte! È una mia impressione o è più grande all'interno dell'esterno? Non mi fido! Zot! Voi chi siete? Perché siete venuti? Torre, buttali fuori da qui! Torre, ti ho detto fuori, non dentro! Ma quelli sono i bracciali dei guardiani! Ragazzi, guardate! I bracciali degli elementi! Nessuno tocchi quei bracciali! Perché mai dovremmo ascoltarti? Perché io sono Aoki, la custode della conoscenza! Quando i cavalieri gormiti scacciarono i Darkan molti secoli fa, loro crearono il sigillo della luce, l'Elestar, per intrappolarli per sempre a Darkor, il regno delle ombre. Se il sigillo dovesse diventare scuro, i potenti guardiani dovranno usare questi bracciali per evocare i cavalieri gormiti. Io sono colei che ha il compito di guidare i guardiani. Gormiti raggiungibili Chi difenderà? The legend is back! The legend is back! Gormiti! Gormiti!